Ciao a tutti, io sono Sonia e se mi vedete particolarmente rossa è perché fino a tre secondi fa ero davanti al caminetto Uh, sembra col fard Comunque, nel video di oggi, come avete sicuramente già visto dal titolo e dalla copertina Andremo a provare a scambiare il nuovo pet Cioè uno, uno dei nuovi pet Ovvero il coniglietto, inizio ad entrare così ve lo faccio subito vedere Il coniglietto, quello nero, che ho già realizzato neon Avevo provato effettivamente a proporglielo Scusate, ok Avevo provato, ma noi non è che dobbiamo... Eh infatti, che ogni volta mi perdo Ok, abbiamo preso la bolla umana E niente, ora stiamo ricominciando il giro, quindi va bene Io non do mai tanta importanza a raccogliere quale stelline Me lo scordo sempre Stavo dicendo Avevo provato, come detto anche in uno dei video precedenti A darlo a Francesca Però Francesca mi ha ringraziato Ma ha detto che effettivamente quelli di Adopt Me gliel'hanno dati Alcuni neon E quindi lei farà dei video con quello E effettivamente mi ha detto di tenerlo e usarlo per un mio video Quindi oggi andremo a provare a scambiarlo Tra l'altro io ne avevo quasi fatti due Quindi coni... Perfetto Perché qua ne vediamo uno Però in realtà ne ho già a disposizione altri Anzi, quasi quasi Voi vedrete subito Io adesso vedo di ottenere gli altri coniglietti Vediamo se riusciamo a farne un altro subito neon Così magari... Intanto andiamo, ragazzi Andiamo Andiamo a fare il gioco Nel frattempo che mi raccolgo le Cerco di ottenere gli altri Li trasformiamo entrambi in neon E così proviamo magari a scambiarne più di uno Ci vediamo subitissimo Ora, riaccomi Non ho ancora gli altri pet Ragazzi sto provando a offrire i conigli neon Vediamo Qui sono uno Due Tre E quattro Vi faccio capire che lo può fare neon Per un leggendario Secondo voi? No Non ho accettato Non ci ho provato Comunque mi sono appena arrivati effettivamente I... I quattro pet E il mio elfo è andato a comprare 10 box Perché nel video prediente successivo a questo Andremo ad aprire 10 box dell'orso Vediamo Quindi mi raccomando Se non siete ancora iscritti Fatelo Per non perdere appunto anche questo video Quando aprirò le box Molto probabilmente uscirà il giorno dopo Ma questo Forse uscirà prima quello Non lo so Quindi eventualmente potrebbe essere che già è uscito Io andrei a controllare Ciao coniglio Sì ma toglietevi da qui ragazzi Ok ragazzi Guardate Mi hanno appena consegnato Tra l'altro qua c'è il mio pet Una prossima partita tra due minuti Dobbiamo sbrigarci Mi hanno appena consegnato le box Quindi ci faremo un video dedicato Adesso andiamo a trasformare i nostri pet Ci facciamo un giro di Perché comunque le lanterne per adesso sono essenziali E poi Dai prendiamo i coniglietti Dai E poi li andremo a scambiare Effettivamente Quindi iniziamo Vediamo di riuscire a finirlo Prima che ci chiamano per il gioco Vai Andiamo Ecco il primo coniglietto Vediamo quanto sei bello Fatti vedere con le tue orecchiette glicine Viola Dove sei? Eccolo Mamma mia Quanto è bello Ma io uno me lo tengo Ma Sbrigiamoci Facciamoci l'altro anche E anche il secondo è fatto Al momento ci dovrebbero chiamare Eccolo infatti Mamma mia quanto è bello ragazzi Bellissimo Bellissimo Cioè è ancora più bello dal vivo Che bello Mamma mia Vediamo se ci fanno già offerte Bellino comunque pure questo coniglietto Ci faremo un video anche dove andiamo ad acquistare tutto Ce l'ho mandata una richiesta Vediamo che cosa ci offrono al volo Minions Ciao Io devo andare a correre Oh Minions E per favore sotto non mi scrivete Ma sono il Minions vale No ragazzi a me non piace Non piace Comunque non vale Perché comunque Era un pet che Prendevi Ottenevi E era regalato Sono dimenticata di togliere La sono Io tolemmono Sacrileggio Comunque finisco il gioco E iniziamo a scambiarlo Spero seriamente Perché la prima offerta Non mi è piaciuta tanto Ok 157 Non è andata male Ok va bene Allora ragazzi Direi che è il momento di iniziare Dove sei il coniglietto Coniglietto Vieni Questo sarebbe bello con una fly Solo che non ho soldi Non ho completamente soldi E non ho fly Vero? No Ok una prima richiesta Megalanta Nunu 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 Allora c'è offerto anche l'orso Ed è molto più in alto Così accetto Ragazzi C'è offerto il leggendario E il mega Dico Per carità Questo non mi piace Però in realtà Questo non mi piace Ed è molto più in alto Quindi secondo me Ne vale Ragazzi ce lo siamo tolti così Ma aspettiamo Vediamo se accetta Non accettato Va bene Lo sapevo io Io ogni volta Ah un'altra richiesta Vediamo Una tartaruga Ma seriamente Ma seriamente Non mi devo illudere Non mi devo illudere Fino a No ragazzi Seriamente Ci sto credendo No Ma perché Mi prendono in giro Un'altra richiesta No Allora Per carità Oddio Però sapete Che forse Forse Ne vale Forse Li vale Perché Fammi Ne fa tempo Guardo Comunque È più in alto Però Non lo so Non di tanto Perché Cioè Non lo so Rifiudiamo Io spero che lui Mi rifaccia l'offerta Sono sincera Ho rifiutato Ragazzi Vediamo che non me ne vento Se me ne aggiunge Se aggiunge qualcosa altro Vediamo Mi sento male Ti prego Rifammi l'offerta Era quasi tuo Mi avevi così convinto Un'altra Un'altra Ti prego Fa che quell'offerta Che ho rifiuto Se me Ma perché Mi fanno così Ragazzi Mi stanno prendendo Tutti in giro Mi fanno delle offerte Bellissime E poi mi declinano Si sono messi d'accordo Non gioisco più Una farfalla verde Non è manco male Secondo me Sapete che Accetto Molto più in alto Ma mi è stato Per Ragazzi Mi sono andato in giro Mi sono andato in giro Allora Non capisco O loro pensano Che Cosa ho fatto? Eccomi Scusate Loro pensano A prima Impatto Ce l'aveva già fatto L'offerta Questa ragazza Non mi ricordo Però che cosa Ce l'avevo offerto Che avevo rifiutato Forse Il Minions Ah no Il Gatto Mega No 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 Bobo ciao Guarda Veramente Non ho parole Aaaaaaah Mi arrabbio Mi arrabbio No Non ti arrabbiare Sonia Allora Loro pensano che è un altro coniglio Forse pensano che A primo impatto pensano che è l'ultra light Quello blu Non capisco E poi quando se ne accorgono Rifiutano Perché non lo so Io l'ho pure scritto Io per questo lo vorrei No questo no Eh si questo è leggendario Mannaggia Mannaggia Ragazzi mi sono appena accorto Che non stavo registrando Quindi non so se Le offerte che mi hanno fatto potentissime O si sono viste Non lo so Vieni qui Comunque se in caso non stavo registrando Ve lo dico Mi hanno offerto il petto nuovo a pagamento La tigra alata Mi hanno offerto una tartaruga Mi hanno offerto Dei pet Veramente Spero che stavo registrando Non voglio immaginarlo Che lo stavo registrando Eh vabbè Ciao Ok Prima richiesta Dove Preferiti No 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 Io ho scritto no Non me lo cambia Quindi Dai ma nessuno vuole questo bellissimo coniglietto Mi aspettavo molta più richiesta Devo essere sincera C'è più Un'offerta Per il mio pet Un'offerta Per il mio coniglio Sì ragazzi Io accetto 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 Anche perché chissà Per ottenerlo quante box dovremmo aprire Ora che lo sto scambiando Volete vedere al primo palpo Secondo me È buono Sì 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 Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Oh Oh Questa ragazza Cerca Il black Io ce l'ho neon Lo vuoi neon No No Non lo vuole neon Non lo vuole neon Lei Lo vuole la normale Proviamo un attimino A continuare A vedere Se qualcun altro lo vuole Quest'altro neon Se no ragazzi Ce lo teniamo noi Perché a me piace tantissimo E Io sono contenta così Perché ho ottenuto Il mio autocchiotto Leggendario Quindi siamo a posto Con le box Dico Ci facciamo il video Dove ne apriamo 10 E non c'è bisogno Non abbiamo quella prestazione Quell'ansia Che dobbiamo averne Per forza uno Da quelle 10 Che dite Io mi sento più tranquilla Ora troverò tutti Leggendari Mai successo Nella storia Di youtube E E quindi Dicevamo Comunque Va bene ragazzi Dai Niente Io mi ritengo Abbastanza soddisfatta Certo abbiamo avuto Delle offerte belle Potenti Devo ammettere E spero di averle registrate Perché se no Veramente ci resto malissimo Oh Ma non l'hanno presa Che fortuna Comunque Niente Se questo video Vi è piaciuto E quindi va Dico Sono contenta così Abbiamo ottenuto Il nostro corsacchiotto Leggendario Quindi adesso Non farò Non mi svenerò Per cercare di ottenerlo Poi va Se ce ne vuole uscire un altro Nel prossimo video Dove apriremo Le box Che bebe Gavallo sapete Però Direi di chiuderlo così E comunque Bello Me lo tengo io E in ogni caso Oppure fatemi sapere Se eventualmente Volete che proviamo A riscambiarlo In un altro video Se vi è piaciuto Questo video Lasciate un mi piace Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale E lasciatemi Un commentino Facendomi sapere Che cosa ne pensate Dei trade E se effettivamente Vi è piaciuto Questo Che alla fine Ho accettato Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao